Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft io sono Youppidress e oggi sono in compagnia di Mr. Ricky e Uerai andiamo ad affrontare un minigame che è ancora in beta che si chiama zombie, la fantasia, la fantasia e dobbiamo resistere a delle invasioni zombie eccoci qui in partita, speriamo di riuscire ad arrivare al mio nazionale la chiameremo ragazza la chiamiamo zombie, ragazza zombie 90, zero 90 supergirl zombie 89 oh mio dio no no, supergirl zombie 89, levati questa è la mia finestra spero che le puoi mettere la lista c'è ragazzi, se io adesso scrivo in chat zombie crede che stia parlando con i zombie, non con lei si uè 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 il santo che parlava di zombie ha quitato vai che bella, adesso siamo in tre non ci vedremo mai no, infatti oh 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 scappa, scappa ma ti te la saluta oh 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 oh, doppio triplo wow aperto ok, vado a comprarmi il coso ehm, posso comprarmi l'arma e poi apro gli appartamenti io essere ricco io madre potria russia però non posso farmi l'armar Andate amici miei, fatevi un arbor per me! Chi ora? Davos con il buono! Anzi, gold! Gold! I soldi! No, soldi! Money, 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 money! No! No, volevo ripararlo durante te! I soldi! I soldi doppi! I soldi! I soldi! Mi cadono, ho preso i pantaloni! Quanto costavano? 700 giusto? 1000 Dai, quanto costavano? 750 Ah, i pantaloni pensavano la cosa dopo! 1000 1000? Che cazzo c'è i pantaloni di diamante? Sono d'oro? No, di iron! No! Simpatico! Mia! Vai, mia! Dai, mi devi fare l'armor! Eh, ma ti! Eh, ma ti! Eh, mi devo fare pure l'armor! Eh, vabbè! Tu sei sacrificabile! No, bimbi, amigazzi! Anche bimbi, amigazzi! No, bimbi, amigazzi! No, bimbi, amigazzi! Perché io ho molta mera! 750? Vai, vada a comprarmi l'arma! Oh, cavolo! Ok! Maxamu, Maxamu, eh, si, mazzamu, un corno! Maxamu, un corno! Tu stai, oh mio dio! Ma non ho! Tu stai, oh mio dio! Tu stai, ecco, ti vedo, ti sono! No, raga, non ci vedo! Non so se fai! Non so se fai! Non so se fai! Ehm... Batti due a mano? Hai comprato i pantaloni? Si! Ma ora, a comprarli pure io! Riccardo, apri la cosa! Oh, porco! Un jumpscare mi è preso! C'è avendo un jumpscare pure su Minecraft! Hai visto che era la nonna? Oh, porco! No, era uno zombie! Porco! Sali sopra, sali sopra! Molto più sponente! No, ma con gli soldi! Posso anche morire per i soldi! Non mi dà una roba! Sali sopra! Non posso più! Io sono bloccato! Cazzo quanto fanno male di un pauretto nonna! Salfatemi! Non lasciatemi qui a morire! Cazzo, ti prego! Cazzo! Sono tanti tanti zombie qui sotto! Il nome della nostra figizia! Cazzo, te lo sto parlando da dietro! Dietro, dietro! Io sono gli esseri insensibili! Mi li avete lasciato a morire! Sono i soldi! Che bello! Che bello! Finalmente! Dove sono? Sono i due! La prima estra! Ci sono tre! Ma che simpatico! Guarda se ti ammazzo! Sono i due! Sono i due! Ci sono i due! Ci sono i due! Ci sono i due! Eccolo! 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 Difficile! Ok! Salite sopra! Sì! Sto salendo! Stavolta conviene salire! Arrivo! Sto state? Conviene andare direttamente alla power station! Eh! Appunto! Noi la stiamo andando! Questa è da round 8! Quando è che si spavano a bombi? A 10 mi pare! Sono sempre ogni 10 boss! E lì sicuramente dobbiamo essere tutti uniti! Dove sta però! Ragazzi! Mi sono perso! Mi sto trovando tutti gli zombie nemici contro! E sono un migliore! Vieni su! Mi sono morta! Basta che sali! Più sali è il migliore! Ehm! Sto cercando la cosa! La scala tu stava! Vieni qua! Sali! 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 Andiamo qua! No! Girati! Cazzo! Aspetta un attimo! Ista kill! Ista kill! Mi hai salvato! Vieni! 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 Cazzo! Avevo fatto il giro di tutto tranne nella zona del Londra! I am a fucking Venus! E più su per tutto fa da mare! E più su per tutto fa da mare! Mattia va prendi il power switch! E la posso! Io sto ancora con la pistola vabbè! Non hai comprato il rifle! Non hai comprato il rifle! C'è rifle ma c'è anche la pistola! Nel senso non c'ho due armi scioppate! Pure io! Tutti! Tanti cani! Tanti cani e power switch! Tanti cani e power switch! Tanti cani e power switch! 200, però sono tanti eh Riccavo il freeze oppure poi no, 1200 adesso no Riccavi ai qua, seguimi Eh, però là ci sta l'omplimento di vida che è buonissimo di da 5 quali extra Uno fra migliore, che secondo me c'è i miei vecchi di freeze che sono ancora meglio Sì, ma qua ci sta... Do stai quello che ti utilizza? Ricca, vieni... Ricca, dove stai? Gioglissimi... Qui fa e che fa? Dove stai, dove stai, Riccardo? Dove state voi? Io la faccio a terminare a razzo Sbrigati, sbrigati che arriva a bombi Raga, sbrigatemi Qua iniziano a livello di fisica Eh, a me, ma no Ricorri, ricorri qua, qua il frigo, il frigo Raga, ma è fico... Eh, ma questa mille Cazzo Ma perché non ci hai seguito? Eh, ci stanno... Eh, ma tu non ci so che a me Cazzo Cosa? Ma tu non l'hai comprato? Ma dove? Stai qui! Ci siamo da mezz'ora! Vai, lo compro io! Lo prendo! Ok, l'ho comprato! Lo ho preso pure io! Cazzo! Sto morto! E' bombi addosso! Raga, non funziona, purtroppo! C'è chi è una cagata? Ti salvo io! Che hanno andato? Ma secondo me... Com'è lì? Ti ho salvato, vai! Ti ho salvato, vai! Io scappo, dove hai sparato, raga? Io spara gli altri zoom intatto, dove stai? Sfoltisco! 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 Cantano ogni volta! Ma non fa un cavolo! Ma che sa quelle cose ghiacciate che ne esso! Sono una cazzata! Ma ti hai dovuto prendere questo? Sei inutili! Sono il perchè più inutile della storia dell'umanità! Non lo devo premere! Lo apigio! Sto muorendo! Raga, ma non funziona il Frozen Robo! Sto muorendo! Sto muorendo! Sto muorendo! Sto muorendo! Io lo sto attaccando. Se vai in modo alineare... Io riesco a colpirlo meglio! Non Ed ini mano! Oh la luce uo*** Dove sei? Eccolo! Sei tantico per tu magari? Lo sto attaccando! Ma se questo si muove in tondo! Non è facile prema! Eeeh non so che non è facile! Non ti muore in tondo! Non posso lo muovere in tondo, sì a me lo finisce! No, se vai dritto uguale Oh mio Dio, un incubo Guarda, ecco perché, ecco perché è sprecata le munizioni e le finite subito No, lo sto attaccando solo io, è diversa la cosa, quindi è facile tu non l'hai usato Sprecare le munizioni, sprecare le munizioni è un corno, tu non le usi, no, non spari, ragazzi, ragazzi Ecco che sto sparando, ma guarda, oh mio Dio Io posso la best? Io no, eh sì, anche mio Ah, perché abbiamo messo poco tempo, dai salite ragazzi Aha, mumu, super, go Sì, ragazzi, tante munizioni Perché è più utile della storia qua Ragazzi, un arancione No, aspetti i maghi, ci hanno chiesto di lecita di maghi Attento Io questo schifo di munizioni, non faccio per niente Ma ti fa uno schifo quei cosi Attento Finito le munizioni Ah, io ho finito le munizioni del riff Sì, scappiamo la galleria, scappiamo, Dorda, vieni nella galleria Ho salvato Mattia Sono morto per te Mattia E sono morto anch'io Il salvataggio più utile della storia Ista kill, raga, isto kill Ho preso Culo, che culo, vai ammazzati tutti Con il rifle, con il rifle, vai 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 Noi ho finito le munizioni del riffle, raga No raga, vado a fuoco E' stato bello conoscermi Raga No, sono ancora vivo Sì, ti hanno veramente stuprato alla fine Di fronte a queste frecce vagate Finiamo l'episodio Spero che vi sia piaciuto E noi ci incontriamo Perché c'è uno spirito che fuoriesce dal maiale Che cazzo Va bene ragazzi Noi ci vediamo al prossimo episodio Addio